Ha sembrato facile per due set, poi ci siete dati un po' in difficoltà, ma siete cresciuti tantissimo alla fine del quarto. Sì, è importantissimo che abbiamo chiuso questa partita per noi, abbiamo morato un po' nel terzo set, però come l'ho detto è importante che abbiamo portato questi tre punti a casa. Tre punti che sono importanti per la classifica, che rimane una bella classifica, ma davanti ci sono tre partite che sono forse le più difficili del campionato. Ah sì, certo, giochiamo contro le tre squadre fortissimo, lo sappiamo, però adesso abbiamo una settimana per prepararci. Tu personalmente come ti senti? Ti abbiamo visto magari un po' più falloso del solito, qualche errorino in più, ma stai bene. Ah sì, avevo qualche problemi in questa settimana con la schiena, però sono felice che potevo giocare oggi e abbiamo vinto questo conto.